Musica Lunedì 17 luglio, Sant'Alessio, è il 198esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 167 al termine. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.55. La luna, leva alle 0.58, tramonta alle 14.16. Il Senato Veneto decreta la costruzione della nuova pescheria di Rialto. Per far veramente comodo il luogo della pescheria, recita il decreto, siano atterrati gli edifizi del canton della frutteria fino al canton del rivo della beccaria. Le previsioni per domani. Sulle zone montane e piede montane, leggera variabilità con spazi di sereno alternati a parziali addensamenti. Altrove cielo è più poco nuvoloso. Non si esclude qualche locale breve rovescio in montagna. Le temperature aumenteranno soprattutto sulle zone montane e piede montane, massimi in aumento soprattutto tra pianura e prealpi. Per il resto i valori termici subiranno variazioni meno significative.